Ciao amici, conoscete il segreto per dimagrire in salute? Saltare i pasti? Ho detto in salute, bisogna dimagrire mangiando. Invece di rinunce sofferte e piattini da usignolo, meglio mangiare la giusta quantità di alimenti sani che danno energia e tengono attivo il metabolismo. E come si fa? Ecco i miei consigli, basta seguire uno stile alimentare con cibi leggeri che non appesantiscono ma ricchi di energia così restiamo attivi come il nostro metabolismo. Seguendo questo stile si possono perdere fino a 2 kg a settimana ma ovviamente dipende dalla situazione di ciascuno. Ecco uno schema utile, ma prima se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Colazione? La colazione deve essere leggera e nutriente per esempio muesli integrale con latte vegetale, gallette di riso bio con creva di mandorle o nocciole, pane integrale, frutta secca e succo di frutta naturale. Evitare prodotti industriali con zucchero bianco, latticini e succhi confezionati. Pranzo? L'abbinamento ideale sono carboidrati e verdure cotte o crude per esempio, risotto ai funghi e contorno di insalata o zucchine, pasta con i broccoli e contorno di spinaci, orzo con verdure e contorno di pomodori freschi. Trucchetto? Limitare il sale, usare olio extravergine di oliva a crudo e insaporire con le spezie. Cena? A cena preferire proteine magre e verdure con pochi carboidrati come seitan o tofu insaporiti a piacere con contorno di fagiolini e un'insalata verde. Per gli onnivori carne bianche, pollo e tacchino o pesce. Anche a cena sconsigliati i latticini e i condimenti pesanti. Per chi ha molta fame, accompagnare la cena con del pane integrale, delle gallette di riso o un po' di riso o cereali al vapore all'orientale. E il dolce? Chiudere il pasto con una bomba di zuccheri non solo blocca la digestione ma vanifica tutti gli sforzi fatti durante la giornata. Va bene la frutta, per chi la digerisce dopo cena, uno o due datteri meggiul, oppure uno o due cucchiaini di marmellata bio senza zucchero. Per le quantità ognuno si regola secondo il proprio appetito, comunque non bisogna mai ridurre troppo l'apporto di cibo, altrimenti si ottiene l'effetto contrario e si ingrassa anche senza mangiare nulla. Per vedere tanti altri video come questo basta iscriversi al canale, è facile, con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e dimagrisci! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!